30 giugno 2017 muore a parigi simon veille nata a nizza il 13 luglio 1927 di famiglia ebrea conosce a soli 16 anni gli orrori del lager di auschwitz sopravvivendo all'olocausto figura centrale del femminismo in europa diviene ministra per la sanità francese nel 1974 riuscendo a far adottare la legge di depenalizzazione dell'aborto nel 1979 è la prima presidente del parlamento europeo direttamente eletto istituzione presso la quale opererà per 14 anni prima di tornare alla politica francese attiva contro l'antisemitismo e paladina dei diritti delle donne in suo onore la piazza di fronte all'edificio principale del parlamento europeo a bruxelles è stata battezzata nel 2011 agora simon veille